Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova night session su Ethereum. Allora, a che punto eravamo arrivati? Eravamo arrivati al punto che ci aspettavamo un rialzo prima di una discesa. Il rialzo è arrivato, è stato molto forte e mi ha portato a fare determinate considerazioni. Perché quando siamo andati in violazione di uno swing ben preciso, la centratura non reggeva più come era prima. Non potevamo più pensare a un ciclo lateral ribassista come questo, anzi vincolato già a ribasso, perché eravamo andati sotto questo minimo, vincolato a ribasso, che poi facessero un massimo sulla seconda parte così alto? Assolutamente no. Non... queste sono cose che chi studia e utilizza la ciclica da tanto tempo sa che non possono succedere sui cicli superiori. A volte succedono sui cicli giornalieri e ok, ma sui cicli superiori no. Per cui, partendo da questo minimo, ho dovuto comprendere come se articolasse un qualche cosa per cui da questo minimo si andava a superare uno swing molto importante. Ho fatto una cosa molto semplice, ho preso il tempo ed ho visto che con 117 barri si arrivava a un semestrale. Per cui, cercando in tutti i modi di trovare una scomposizione di un semestrale, a un certo punto sono arrivato a questa conclusione. Primo ciclo mensile, che si chiama t più 2, secondo ciclo mensile, secondo t più 2, terzo ciclo mensile, e poi il raccordo di che grado? L'accordo di grado t più 1 tra, giustamente, un semestrale e un semestrale. Eccolo qua. Finta rialzo con ribasso e ripartenza. Voi sapete perfettamente che un semestrale può essere fatto a 4 tempi, ovvero a 4 mensili, oppure può essere fatto a 3. Ed eccovelo qua. Successivamente, con un sottociclo di 3 gradi inferiori, abbiamo avuto il nostro accordo, da qui abbiamo una certezza, ok? Ma proprio certezza, che può avere soltanto chi utilizza l'evoluta e conosce gli swing. Ovvero il fatto che sia partito minimo un ciclo trimestrale. Ce lo dice sia un t più 1 rialzista, questo, che è alto. Per cui, da qui abbiamo che? Primo settimanale. Eccolo qua. Secondo settimanale. Arrivato già a 7 barre più 1. Qui abbiamo potuto andare in chiusura di che cosa? Di un bisettimanale di un t più 1? Ecco, chi studia questa risposta la sa. Quindi sa che cosa aspettarsi da adesso in avanti. Se non è ancora chiuso il t più 1, si continuerà a scendere, a cercare la chiusura di quello che prima veniva considerato il quarto t, il quarto ciclo settimanale, e adesso è il secondo. Perché, superati i determinati swing, non potevamo più essere in un ciclo che definivamo prima mensile, un secondo mensile. Niente da fare. Chiunque conosca anche soltanto la ciclica base in ogni swing capisce questa cosa. A questo punto, visto che cosa sta succedendo appunto di lato indice e lato prezzi, abbiamo che il trend forte da seguire è quello rialzista. C'è un ma, è il ma interessante. Primo, che cosa? 28 giorni, mensile inverso. Secondo, mensile inverso, ok? Con chiusura di trimestrale inverso. Questo è 1 e 2 trimestrali inverso. E qui, punto di differenza mostruoso rispetto a Bitcoin, che cosa? La discesa con la violazione di questo minimo che permette di far partire da qui persino un trimestrale inverso. Un trimestrale inverso che, come sapete, parte da massimi, in questo caso un piccolo massimo questo qua, scende su minimi e poi torna su massimi. Qui, peraltro, siamo soltanto a 23 barre, ok? la vieta che, visto lo svolgimento a tre tempi del primo semestrale, non vogliono fare lo stesso sull'inverso, eh? Per cui, che cosa facciamo subito? Cosa fa un analista quantitativo dei mercati? Va a fare la sua misura. Trova che un trimestrale per adesso non è ancora un semestrale e quindi c'è ancora spazio. Spazio perché? Perché in realtà, dato che qui siamo a 23 barre su minimo 24, con un massimo superiore a questo andremo in chiusura, quindi possiamo aspettarci una continuazione della salita chiuso il bisettimanale, però prima si chiude il bisettimanale e poi si fa l'ultimo tratto in salita con un massimo che può andare a fare sopra ovviamente e quindi i 1595 dollari e poi chiuso che cosa? è chiuso il settimanale inverso che può aver già chiuso qui a 9 barre da qui ne può essere in partenza un altro che se andasse qui sopra si vincolerebbe completamente a rialzo vedremo se continueremo a salire chiaro? per arrivare a questo genere di centratura devo dire che ho dovuto fare controlli su questa spike che fosse presente su tutti se possibile gli exchange infatti ho chiesto aiuto al gruppo che è stato come al solito gentilissimo e mi ha dato una mano per capire molto rapidamente qual era la situazione sì è presente su tutti gli exchange che si va qui sotto a differenza di bitcoin su bitcoin non abbiamo la conferma della partenza di che cosa? di un possibile appunto trimestrale e vi faccio notare anche un'altra cosa qui potremmo essere ancora in un mensile no siamo a 48 bar qui sembra tanto rispetto a bitcoin che appunto si è partito da qua un secondo mensile inverso o anche una chiusura appunto di trimestrale almeno inverso questa è la differenza fondamentale vi faccio notare un'altra cosa interessante prima di chiudere con l'analisi guardate che training range misero abbiamo nell'ultimo periodo a partire da metà giugno in avanti di quest'anno rispetto a quali erano i movimenti precedenti da qui ricordiamoci peraltro che è già partito qualcosa di grosso è da qua dall'alto se arriviamo ad oggi siamo a 353 giorni con 353 giorni la scissione che avevo fatto a 227 più 54 risulta corretta era un esperimento come vi ripeto ma l'esperimento sta dando buoni frutti dato che un annuale inverso dura al massimo 336 giorni qui su questo massimo siamo arrivati a chiudere l'annuale inverso il primo annuale inverso e quindi bisogna vedere che spinta avrà questo secondo annuale inverso perché siamo arrivati a quanto siamo arrivati a 76 barali che significa trimestrale quindi conferma per il tempo della partenza di un annuale inverso e non è che siamo vicinissimi dal vincolarlo a rialzo a rialzo di prezzi dico vogliamo tirare un Fibonacci bisognerebbe farlo contrario ma intanto più o meno giusto per avere un'idea tiramolo fino a qua e qui c'è il 50% e qui troveremo resistenza attorno ai 1600 1621 dollari infatti qui abbiamo provato ad andare su ci siamo fermati candela rossa candela verde però ci serve la chiusura del mensile inverso se non riusciremo a superare quest'area e inizieremo a scendere faremo partire il secondo trimestrale inverso questo è il primo trimestrale inverso fatto a U e il secondo se parte ci porta giù se parte come? se parte dopo un 1, 2, 3 tempi spero che tutto sia chiaro anche per chi ha appena iniziato a seguire il canale nel caso non fosse tutto chiaro andate sempre sul canale trovate la playlist trading days giorni di trading in cui si parla di ciclica ovvero si parte della ciclica base per arrivare a parlare di ciclica voluta questo è un metodo statistico matematico che non è discrezionale ovvero non significa che io posso dirvi sale o scende così perché c'è la BCE perché parla la Fed perché perché ci sono semplici regole matematiche semplici no ci sono delle regole matematiche che tutti però possono imparare e grazie a questo possono capire dove può andare Ethereum come prezzi avendo qua noi come detto già fatto un primo T4 con un raccordo perché siamo andati a prendercelo con un raccordo da qui da questo minimo se vogliamo far partire un nuovo T4 un nuovo ciclo semestrale vedete qua avete sempre la leggenda T4 uguale semestrale abbiamo bisogno di un sottociclo di 2 gradi inferiori alzista ovvero almeno di 24 barre sopra questo minimo sopra quello a 1190 dollari se ci rimarremo e poi disgraziatamente dovessimo tornarci sotto quindi se tra 9 giorni 10 giorni facciamo 10 giorni per sequenza se tra 10 giorni dovessimo invece iniziare a invertire la rotta e scendere qui sotto tutto il resto del semestrale si vincolerebbe a continuare a scendere per tutto il suo tempo spero che sia chiaro se non è chiaro soprattutto se siete all'inizio rivedete questi video più volte riguardate Trading Days dalla lezione 1 alla lezione 7 d'accordo? vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata arrivederci a continuare a a continuare a